No! Laterali! Laterali! No! No! Ferma! Ehi! No! Resta! Lei ci sta, Saverio! Saverio, lei ci sta! Resta! Sono i suoi, va bene! No! No! Resta! No! Resta! No! Resta! Resta! Terra! 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 Resta! Resta! Terra! No! Terra! Resta! Resta! Oh! Terra! 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 Ti fa bene! Bravo! Brava Margot! Brava Margot! Tanta roba! Bravi? bravi, adesso bimbi, qua in mezzo fermi lì, ok, chiudere un po' il cerchio lì in mezzo voi, state lì vicine, che ci guardate a noi, giratevi, ok, voi altri tornai alla chiana e dare siedi, allora belli decisi, andiamo verso il gruppo, ci fermiamo e ridiamo siedi, ok, pronti, avanti, piedi, 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 bravi, voi attimo, muovete un po' le mani fermi, 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 adesso vedete come siete, andate da tutti e date la mano, fermi, 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 qui ha problemi con il define, Occhio Vincenzo. Occhio Vincenzo.